Voglio fare, non la morale a nessuno, non di ci bere io, però credo che siamo nel 2016, quasi nel 2017, bisogna essere in grado di sapere che ci sia questa situazione. Ho detto anche ieri, prima di telegrana, la domenica della personale, ho stato a vedere uno stadio in derby, io ci sono riuscito a vedere uno stadio in derby, non si vedano anche i gradini, non mi vuole, è stragoio, deve essere la festa, non ho visto rispetto, ma è giusto andare in giusto situazione, Sì, è vero, credo che non sia stato un derby troppo spettacolare, ma è stato un grande equilibrio, il messo era un messo. Guarda, ma dall'altra parte è una versione. Sì, 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 sì. è una madre che stiamo facendo cioè che sta sotto di fotografie giornalissimi e deve scattare il 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 4. Grazie a tutti.